Per te di urina un'amica mi ha consigliato Linee Specialist Ma come sono sottili, assolivanti La prova mi ha tolto il timore E con Linee Specialist lo dover Sparisce Linee Specialist blocca l'odore e lo neutralizza È sottile, ma quanto assorbe Prova gratis il tuo Linee Specialist Rendete la vostra serata ancora più costosa Con Forno Country McCain Lui ha dimenticato il pin Marco invece lo ha scelto Lei preleva prima di partire E lì sono, lo fa gratis in Italia e in Europa Lui usa i codici per un modifico A Paolo basta un'impronta Scegli ING Accredita lo stipendio e hai conto corrente al ancio a canone zero E tu? Quanto fa? Dopo un'influenza, per prenderti dalla stanchezza Ci vogliono le vitamine del gruppo B Betotal contiene le vitamine del gruppo B Un aiuto per recuperare